Cardinal Baldiseri, lei tra pochi giorni andrà a Puerto Maldonado, in Peru. Lì il Papa avrà il primo incontro con i popoli amazonici. Che cosa lei, come segretario generale del sinodo, si aspetta da questo incontro? E perché i popoli indigeni sono così importanti al punto del Papa avere convocato un sinodo per loro? Il Papa è molto sensibile alla situazione e alla condizione dei poveri. In tutte le sue dimensioni, ma in particolare vuole cogliere l'occasione del suo documento bellissimo, quello dell'audato sì, che ha lanciato appena due anni fa, per poter mettere l'accento sulla custodia del creato e quindi anche dell'ecologia integrale. E quando si parla di ecologia integrale significa non solo la creazione, ma anche l'uomo che la abita. E l'Amazonia è singolare in questo, perché è un polmone dell'umanità per la nostra vita. Allo stesso tempo dobbiamo conservarla e la conservazione comporta anche che i popoli che la abitano possano vivere e possono continuare a dare il loro apporto fondamentale perché questa foresta meravigliosa possa continuare a compiere il suo compito che è quello di darci la vita e darci quindi un'atmosfera pulita, darci l'ossigeno. E i popoli che la abitano sono là, non solo perché loro sono persone umane e quindi hanno la loro dignità, ma anche proprio perché daranno un contributo formidabile perché questo polmone dell'umanità possa continuare a darci la vita. I Vescovi, la Chiesa in generale, in territorio massonico, è molto attiva. Quindi non è una novità, anzi direi che il Papa ha colto l'occasione per dire ecco questo è il momento opportuno perché il mondo intero si interessi del tema amazonico e gli indigeni, quelli che abitano, sono veramente i primi a essere considerati. Ecco perché il Papa li incontrerà per primi. Il Papa che già ha una presenza mondiale e si fa conoscere per quello che è il suo carisma speciale e come leader mondiale morale e che dà delle indicazioni alte io credo che questo è il momento giusto per poter interessare il mondo intero e la Chiesa ha gli strumenti per poter fare questo lavoro. e io dico l'organizzazione è grande, è importante con la sua presenza capillare in tutto il mondo che può sostenere non solo ma può anche sollecitare, può dare entusiasmo, dare anche i mezzi di persone, di organizzazione perché sia portato avanti questo grande discorso della custodia del creato per sé e quindi anche del territorio in sé, ma soprattutto delle persone che vi abitano rispettando le loro culture, aiutandoli a essere uomini, donne, la dignità della persona.